Il narcisista ha subito dei fallimenti e quindi vuole distruggere, ha sviluppato quest'odio e questi fallimenti dentro li bruciano al punto tale che li ha rimossi, diciamo, con un meccanismo di difesa, però inconsciamente vuole punire. Vuole punire le persone con le quali entri in contatto che reputa più fortunate di lui e quindi li invidia, lo corrode e quindi il narcisista è a causa dei fallimenti subiti e a causa delle cose subite. Quindi quando entri in contatto con un narcisista tieni presente che è un fallito o una fallita, per cui non idealizzarlo quando incontri persone manipolative, non idealizzarle, levati dalle palle al più presto che tanto, sono solo feccia, sono solo lo sterco del diavolo. Metti un like con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari. Ciao a tutti.